Un tavolo tecnico per affrontare la questione relativa agli odori molesti segnalati dalla cittadinanza di Milazzo. L'iniziativa è del sindaco Carmelo Pino e dell'assessore all'ambiente Salvatore Gitto. Si è quindi costituito un gruppo di lavoro permanente per discutere e trovare eventuali soluzioni alla problematica. Al primo incontro, quello che di fatto ha stancito la costituzione del gruppo, hanno preso parte, oltre allo stesso assessore Gitto e l'architetto Torre, rappresentanza del Comune, anche i delegati dell'Arpa Messina, della Capitaneria di Porto di Milazzo, della provincia regionale e i vertici della raffineria. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni ambientaliste che operano sul territorio e che hanno segnalato odori molesti negli anni, quali Lega Ambiente e Adask. Per l'assessore Salvatore Gitto la costituzione del tavolo tecnico rappresenta l'avvio di un percorso nuovo che affronti la problematica con un approccio esclusivamente tecnico. Da qui il coinvolgimento di quei soggetti che possono portare il loro contributo attraverso una formula innovativa, ovvero quella del gruppo di lavoro permanente. Gitto si è dichiarato convinto che possano giungere risultati concreti sotto l'aspetto della comunicazione, in quanto è importante che ci sia la giusta percezione dei fenomeni che tanta apprezzione generano nella comunità locale. Obiettivo del gruppo di lavoro permanente sarà quello di individuare con immediatezza la fonte di provenienza degli odori molesti e pervenire possibilmente alle soluzioni tecniche necessarie per la loro eliminazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.